Due sono le lastre di travertino che si sono distaccate dalla base dell'acquedotto medievale di Sulmuna in piazza Garibaldi. Ad accorgersi del fatto sono stati gli inquilini di una vicina struttura ricettiva. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno proceduto a mettere in sicurezza l'area e hanno montato un'imbracatura di legno fino al ripristino definitivo. Per quanto riguarda questa problematica che si è verificata l'altro giorno, cosa possiamo dire? Ieri sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmuna e hanno messo in sicurezza questa parte di acquedotto che è venuta giù. Ha una certa età e quindi queste cose possono succedere. Però è stata messa in sicurezza quindi penso che non ci siano problemi. Speriamo. Un problema per Sulmuna secondo lei? Assolutamente no. È parte della nostra storia. Magari deve essere rimessa in sicurezza, magari ripristinata, forse anche ristrutturata. Speriamo. Lei lavora qui in sostanza? Questa piazza è stata teatro di grandi eventi proprio questi giorni. Io ne faccio parte perché faccio allestimenti degli eventi. con i mondiali di pattinaggio, il concerto dei venditi e poi anche lo video running. Quindi siccome sembrerebbe che questa amministrazione sia orientata a sviluppare sempre più questi grandi eventi qui a Sulmuna, sarebbe giusto mettere in sicurezza tutto e creare le condizioni per svolgere in tutta sicurezza questi eventi. Ma in realtà bisogna avere molta manutenzione a Sulmuna, non quando succedono le cose che aspettano il momento per verificarle. Le crea qualche problema per il suo locale? Ma sinceramente a me no, per altre attività non so a riguardo. Spero che non ci sono stati feriti, non c'è stato niente, quello è l'importante. Ovviamente si dovrà vedere, le autorità competenti dovranno vedere cosa è successo e provvedere e rivedere tutte le regole. Certo, non è un evento molto positivo, lì comunque è un passaggio, ci passano le persone, quindi ci sono dei negozi e la cosa insomma un po' da vedere, da vedere bene, non è positiva sicuramente per una città come Sulmuna. Una cosa antica che giustamente col tempo là ci passa l'acqua ed è... E cede. E cede, come pure là su vicino al fontanone, là al guaschione, pure là a una casa si è rotto il di sotto del balcone. Penso che devono guardarle prima che caschi in destra qualcuno.